Boccata di ossigeno per un 2017 più tranquillo per il libero consorzio comunale di Ragusa dal punto di vista economico-finanziario. È stato di fatti firmato ieri dall'assessore alle autonomie locali Luisa Lanteri il decreto di ripartizione delle risorse previste nell'assestamento di bilancio. Si tratta di oltre 5 milioni e 200 mila euro che scongiureranno di fatto per l'ex provincia il pericolo del dissesto che si prefigurava. L'atto mette in sicurezza le rate dei mutui e gli emolumenti per i dipendenti dell'ente di viare del Fante ed ha notizie all'onorevole Nello di Pasquale. Il pericolo per la provincia eblea quindi è stato definitivamente scongiurato e non si può che esprimere soddisfazione per un lavoro iniziato in commissione bilancio e ora arrivato al termine nel migliore dei modi. Contestualmente al decreto che destina gli oltre 5 milioni al libero consorzio è stato firmato anche il decreto che trasferisce al comune di Ispica 930 mila euro per i dipendenti in esubero. L'assessore all'economia Alessandro Baccei ha già ieri controfirmato i provvedimenti che sono dunque immediatamente esecutivi.